Allora, in questa storia, già da tutto quello che hai raccontato, Piero, sono stati coinvolti un grande numero di personaggi di altissimo livello, il generale Santovito, che poi pare fosse legato anche ai servizi, Kissinger, il presidente Gerald Ford americano, il Vaticano, raccontaci un po' questa storia di queste partecipazioni, nell'essenza già l'hai detto, perché di fatto nessuno di questi personaggi eticamente e moralmente ha appoggiato Rolando, anzi hanno solo cercato di sfruttarlo, ingannandolo e impedendogli di usare questa macchina per il bene dell'umanità. Tra l'altro, Rolando ebbe anche un'uscita un po' così provocatoria quando disse che bisognava cancellare l'articolo 33 della Costituzione che dice l'arte e la scienza nella Repubblica sono libere e libero nell'insegnamento, invece con lui hanno proprio stracciato. Esattamente stracciato. Di questo c'è un episodio riferito alla scienza, perché il professor Zichichi è ancora vivente. Rolando fu invitato da uno dei suoi collaboratori, ma era anche uno dei servizi. Rolando lo sapeva? Sì, quando ha fatto questo già ormai lo sapeva. All'inizio no però? All'inizio assolutamente no. Dopo l'ha scoperto, perché mentre si era appartato, quando è rientrato in stanza, la stanza ha visto un carabiniere che entrando... Lo ha salutato. E' scattato sull'attendi battendo i tacchi nei confronti del suo collaboratore. Gli ha steso una busta e poi è andato via. E a quel punto non ha potuto nascondere che lui faceva parte dell'arma e che quindi... L'inizio si è spacciato come uno che doveva proteggerlo, ma in effetti era uno che doveva controllarlo. Ma come lo ha fatto Mancini, come l'hanno fatto tutti quanti. Una volta che si è saputo di questa macchina, delle potenzialità di questa macchina, tutto il mondo occidentale... ecco perché Kissinger scrive seguite questa macchina ad alta potenziale di energia. E' il presidente Ford che dà il via libera per trattare con loro. Perché quando l'ambasciata gli propone prende prima le prove da fare, poi... L'ambasciata americana. L'ambasciata americana in Italia. E quando sente questo gli chiede di fare delle prove. Entrano in una sforza di trattativa, fanno le prove, lui lascia i referti ed è la prima volta che Rolando Pelizza riceve una comunicazione che è preciosissima, ma per il momento incomprensibile. Analizzati i fori fatti sull'acciaio, gli americani hanno scoperto che su ogni foro c'è la presenza di 12 elementi diversi dal metallo. Quindi c'era già la trasmutazione potenzialmente. C'era una trasmutazione e loro non giustificavano quella trasmutazione, perché loro sono sempre andati avanti pensando che fosse un fascio laris diverso ma un laser. Sono partiti con quell'idea perché serviva un'arma. Tutti i fori, e dopo sono stati riconfermati da altri studi, ogni volta che si è fuori vengono fuori altri 12, sempre 12 elementi, ma mai uguali a quell'altro. Ogni volta sono altri 12 elementi composti in modo diverso. Quindi c'era qualcosa che avviene, che da quel momento diceva che c'era una trasmutazione. Ecco perché già da allora era chiara che si poteva fare la terza. Era evidente. Ma i primi a scoprirlo sono stati gli americani, che gliel'hanno contestato. Come mai? Io faccio il buco. I truccioli non vengono uguali. Quando gli americani hanno capito il potenziale, gli hanno fatto una proposta, un miliardo di dollari per il 50% dello sfruttamento della macchina. Firmati i protocolli e tutto quanto, alla fine dici ma prima di prendere l'impegno bisogna che noi abbiamo una prova tangibile. Abbiamo dei satelliti che non ci servono più. Siccome la macchina arriva a 1500 km, questi stanno molto più in basi. Queste sono le coordinate, tira lì giù. Ma quello è un atto di guerra. Rolando Polizia, strappato tutto, l'ha mandato a quell'altro paese. Perché il giuramento a cui hanno sempre mantenuto fede, sta nella lettera del 26 febbraio del 1964. Tieni sempre presente il giuramento che abbiamo fatto. Per nessun motivo, anche a costo della vita, sarà ceduta come strumento bellico, ma dovrà essere usata esclusivamente al fine di migliorare la nostra esistenza. Come Benzai, la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi. Ora, questo è del 64, ma nel 62, quindi due anni prima, quando gli ha dato questo scritto, in cui gli spiega come funziona la macchina. Ma per leggerlo, gli uomini devono sforzarsi di divenire un solo popolo, che quando sarà dovrà superare l'avventura astrale. Tutto è sincrono nell'agire universale. E pertanto, oggi che la scienza è riuscita a svelare molti fenomeni cosmici, si impone, ci vorrà del tempo, la realizzazione di azione e di pensiero di tutti gli esseri umani, come fossero un solo popolo, senza sopraffazioni, lotte, spargimenti di sangue e distruzioni. Oggi che il pensiero dell'uomo sta dischiudendo nuovi orizzonti, tutti gli esseri devono agire come singoli, come famiglie e come popolo, in una concezione universalistica, operando uniti come in uno stato universale, che sia di tutti nel rispetto della funzione qualificativa e armonica, come avviene nel cosmo, in obbedienza alle leggi dell'eterno divenire. Questo gliel'aveva dato due anni prima. questo gliel'aveva dato chi? Ettore Majorana a Rolando Belinda. Come un regalo, perché gliel'aveva dato il 26 febbraio 1962. Giorno del compleanno. Giorno del compleanno, che lui però non ha potuto mai pubblicare come tale. E nel 96, quando si sta sforzando per far intervenire qualcuno per dargli la mano, per diffonderla, lui lo pubblica con a fianco la firma di un filosofo suo amico, in modo da renderlo credibile, perché non può ancora parlare di Majorana. Certo. Ogni uomo, entità soggettiva e oggettiva, attraverso e in forza della differenziazione, quindi ognuno è diverso da un altro. Certo. Ai fini della comune conoscenza è utile agli altri suoi simili e viceversa. Ecco perché urge l'avvento di una società funzionale qualificativa. Col suo stato di funzione qualificativa, detta società dovrà avere come denominatore comune il diritto al necessario per tutti, il rapporto all'equivalenza dei valori dei soggetti e degli oggetti di lavoro, ai fini della conoscenza comune e universale, a ognuno tutto quello che gli serve per svolgere quella che è la sua funzione vitale. È compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione del cittadino. Sto pensando in quel momento, Majorana e lui ne ha condiviso, che a ognuno gli deve essere tanto davanti. Se c'è una possibilità, se nasce uno che ha gli strumenti per diventare Raffaello, oggi mi dite se lo mettete a fare il precario come fa a sviluppare quelle capacità. Noi ci stiamo privando della ricchezza vera, per fare di tutti gli uomini schiavi e li deportiamo perché non abbiano neanche più le radici e la forza che gli viene dalle tradizioni. È quello che si sta cercando di fare con l'Italia. Ma quello che hanno iniziato i tempi nostri. Quando hanno cominciato a dirci che non bisognava andare a bottega, che fa? Metti a lavorare un bambino? Dopo 14 anni gli impari a toccare il pennello? Gli impari la sensibilità dell'arte? Hanno staccato i nipoti dai nonni. La catena dell'insegnamento, la catena tra gli uomini, si è spezzata allora e ce la vendono come progresso, come garanzia. Leonardo da Vinci non era laureato, andava a bottega. Ma tutti sono così. Quindi questo era il pensiero. Ma quello che è il passaggio Permettimi Piero, comunque allo stato attuale siamo anni luce lontani da anni luce di coscienza non di distanza spaziale. Per ritornare al concetto che era un ingegnere per molte pagine lui spiega Rolando Pelizza partendo da Einstein sull'energia, la quantità di energia e tutti quelli che hanno lavorato sui segnali elettrici, sul magnetismo. Lui li elenca tutti e poi gli dice. Ho raccolto tutti i suoi esposti dati, seppure prolissimamente descritti e in parte ormai di comune dominio, per poter meglio illustrare la mia idea in ordine alla possibilità di sfruttare l'equilibrio e la simmetria della natura cosmica senza violare alcuna legge fisica, avvalendomi anche dei risultati sperimentati raggiunti in campo nucleare, perché lui si era appartato ma continuava a leggere le riviste, ad essere informato, Majorana, dalla fisica moderna al fine di creare, lo rileggo perché se no si perde il senso, per poter meglio illustrare la mia idea in ordine alla possibilità di sfruttare l'equilibrio e la simmetria della natura cosmica senza violare alcuna legge fisica, avvalendomi anche dei risultati sperimentali raggiunti in campo nucleare dalla fisica moderna, al fine di creare, senza danni per l'umanità, l'energia necessaria alle sue attuali esigenze. Escludendo quindi a priori un qualsiasi sistema che comporti con le reazioni nucleari a catena, danni incalcolabili per l'umanità, presente e futura, specialmente per quanto concerne gli effetti della radioattività. Mi sono sforzato di trovare la soluzione, sia di evitare il bombardamento diretto del nucleo, sia di evitare, per giungere adesso, il superamento delle forti barriere protettrici costituite dagli intensi cambi elettrici, della corona atomica. Questo l'aveva già detto, ecco perché gli dice a Rolando Pelizza, quando lo dirai che hai collaborato con me, spiega anche i motivi. Rolando lo sapeva da 62, non è riuscito a farsi ascoltare. E questo l'umanità probabilmente lo pagherà caro, se non riusciamo in tempi brevi a ricreare quel popolo che qui, Ettore Majorana dice, un unico popolo, ognuno differenziato dall'altro, perché ognuno partecipa all'insieme, ognuno è quello che è per l'universo e quindi soddisfatto. Ma è soddisfatto perché il mondo gira bene. Ma con uno scopo comune. E' lo scopo comune, mantenere l'equilibrio e la vivibilità. Lo scienziato Clementel, il professor Clementel fu incaricato dal governo Andreotti di verificare che questa macchina facesse esattamente, e siamo nella prima fase, che Rolando diceva di fare e Clementel disse... Avevano saputo attraverso i servizi segreti, quindi le spie, che cosa faceva la macchina. La macchina interveniva sulla materia annichilendola e il governo, perché quello che sappiamo ufficialmente è che è intervenuto il governo, che ha incaricato il ministro dell'energia di allora, di approfondire e il ministro dell'energia ha chiamato il massimo rappresentante che era Ezio Clementel, in quel momento direttore del Cren, centro d'energia nucleare. Clementel, non sappiamo se con o senza le collaborazioni, ma Clementel ha fatto un'operazione che Rolando Pelizza definì e definiva sempre. Finalmente si trova uno serio e gli ha commissionato di colpire con la macchina, di riprendere la prova e di portare poi i referti, perché Rolando si è rifiutato di portare la macchina in laboratorio. Ha detto, io faccio le prove e poi dopo quel giudicato. Quindi Rolando Pelizza ha preso la macchina e sulla base, dopo aver concordato e firmato un protocollo, la macchina doveva forare una lastra, prima una lastra di alluminio a un metro. Se riesce a forarla, allora deve forare a distanza di un metro una lastra di acciaio, poi a tre metri, poi a cinque metri. Ed è la lastra che porta tre fori sui referti. Poi di forare una lastra, parliamo sempre di una lastra di alluminio di acciaio inossidabile di 2 cm di spessore, deforare una lastra di acciaio posta dietro una lastra di plexiglass. Senza intaccare il plexiglass. Perché nei patti, c'è nella descrizione Rolando, che se fora l'acciaio senza incidere sul plexiglass. Fatto questa prova, se funziona, forare il plexiglass dietro una lastra di acciaio. Se fora l'acciaio non arriva giù. Perché, come stanno pensando al raggio laser, sanno che il raggio laser invece viene intercettato e brucia tutto quello che trova. Fatte queste prove, con i filmati, vengono dati a Ezio Clementella che, misurando gli spessori, misurando quello che è avvenuto, la quantità del materiale scomparso, e tutto quanto, conoscendo chiaramente la fisica come pochi altri, elabora la relazione. Cito una frase che mi sono segnato, Piero. Clementella scrive «Produceva energie e potenze al di là dei limiti dell'attuale tecnologia». Utilizza tecnologie da noi non conosciute. Però arriva una conclusione che conferma la formula di Einstein, ma che conferma anche quello che stanno oggi dicendo per giustificare la costruzione della centrale a fusione dell'idrogeno al sud della Francia. Perché questi sono i numeri. L'energia che la macchina ha fornita in due minuti corrisponde ad una potenza di 540.000 kW, uguale 540 MW. la potenza. La potenza è la potenza di un gruppo di una centrale nucleare o termica di media potenza. La macchina lo ha fornito. Perché facendo i calcoli di quello che… ma la macchina, che lui la descrive prima, la descrive come grandezza, è un cubo, è alimentata da una batteria di automobile a 12 volt, da cui assorbe 43 Watt la potenza di una lampadina che noi utilizziamo ai corrigioio sulla macchina. 43 Watt. E con 43 Watt ha sviluppato quella potenza. È chiaro che gli americani a quel punto vogliono metterci le mani sopra. Ma come in questo momento gli americani ma tutti gli stati non vogliono mettercela per metterla a disposizione. La vogliono come arma. Perché tutte le scoperte hanno purtroppo questa disastrosa storia che prima di far essere valutate per i fini civili vengono valutate i fini militari. E questa non ha fatto eccezione. E i militari hanno una logica sola. Se poi sono guidati da esseri intelligenti, ma che sono tarati in mala fede, è chiaro che si distrugge il futuro del pianeta per poter soddisfare le malsane ambizioni legate al loro potere, al loro punto di vista, senza tener conto che viviamo su una navicella sospesa nel vuoto. Ed è una sola. Per loro come per noi. Certo. Ecco perché abbiamo una possibilità, ma molto esile ancora, di creare sulla base dei disastri che sono stati creati ulteriormente e di quello che è la minaccia che ci ingombe. Detta nel 1976 da Ettore Majorana, scritta al governo e confermata dagli scienziati, l'ultimo quello che era paraplegico, Hawkins, lo ha confermato, che noi stiamo sull'orlo del baratro e l'unica strumento che abbiamo, vero, che può funzionare, è quella macchina. Perché se non andiamo alla radice a produrre l'energia che ci serve con dei metodi che non siano inquinanti. E distruttivi. E distruttivi. Non andiamo, nonostante questo, non avremmo pace, perché Ettore Majorana ha scritto in modo molto chiaro, se non si pone riparo, dal 2000 saranno misurabili i cambiamenti irreversibili. Dal 2010 saranno visibili, a livello dei comuni mortali, degli eventi, dei fenomeni climatici catastrofici fuori dalla normalità. Ma se nulla si fa, a partire dal 2022 al 2024, a causa dell'assottigliamento dell'ozono e quindi il corrispondente aumento delle quantità di radiazioni che arrivano sullo strato terrestre, su questa calotta di 18.000 metri dell'aria, avvengono due fenomeni. Uno, la maggiore quantità di irraggiamento porta sulla Terra una disponibilità di calore che continuerà ad alimentare l'ingremento di temperatura, a prescindere da quello che fate. Quindi c'è un passaggio diretto. E l'altro è che le radiazioni che oggi sono schermate, quando arrivano nell'altro strato dell'atmosfera in cui è presente l'acqua, là dove avviene la formazione dei nuclei che poi condensano l'acqua e la fanno riscendere a gocce, queste modifiche qualitative e quantitative porteranno alla formazione e quindi alla precipitazione di una quantità di acqua pari a 250 centimetri cubi, un bicchiere per ogni goccia, anziché una goccia a 250. Dove capita quel fenomeno è diluvio, incontrollabile. La quantità di calore che si accumula a livello di superficie fornirà ai cicloni l'energia tale per cui i venti arriveranno a 400 e anche 600 chilometri in ora. A quelle velocità di venti, là dove questi passano, non rimangono neanche la terra vegetale al posto assurdo. Quindi a quel punto, con questi cataclismi che avvengono laddove decide il Padre Eterno e non loro, che cosa succede alle popolazioni che sopravvivono, ma non è più vivibile l'ambiente. Con che le fermi? Con i mitragliatori? Quindi avverrà poi, si innescherà un processo di spostamenti e di tensioni che non sono difficilmente controllabili. Quindi noi andremo incontro al disastro e l'unico strumento è la macchina. Ma per usare la macchina ci vuole una umanità che la merita, una umanità che corrisponda a quei valori che Ettore Majorana già nel 62 aveva codificato. Domanda Piero, dove avviene questo incontro dove Majorana espone i suoi dati e con chi si incontra Majorana? Cioè a chi lui consegna questo risponso? Majorana lo consegna, come explico a Rolando Pelizza, che si impegna, passando a Roma, di consegnarlo nelle mani del ministro a cui lui faceva riferimento. Questo è sicuramente arrivato nelle mani di Andreotti. Che ha fatto niente? Ma per quello che scrivevano alcune riviste che ho letto, pie e contro, i contratti con gli arabi per importare petrolio. E siccome questa macchina rendeva nullo il petrolio, rendeva inutile il petrolio, non era dell'olore inutile. Ma del resto ce l'abbiamo sotto gli occhi, no? Se andiamo a vedere, perché tutti lo possono vedere, è pubblico. Quando prende lo Stato italiano per ogni litro di benzina che noi paghiamo? La metà. 72%. Il principale ladro è il governo. Quindi, dal di là delle chiacchiere, è inutile che ci dicano che noi vanno a calmirare. Smettete di prendere le tazze. Non speculate sulla nostra fame. Il popolo questo non lo capisce. Purtroppo ha difficoltà a capirlo, perché è stato abituato, ma questo da secoli, a prendere quello che gli viene detto e non da cattivo esempio di chi predica. Si è detto in questi due anni passati, lo dice la scienza. Lo dice la scienza. Stanno facendo una guerra. Certo. La fanno dicendo che portano la pace, no? Sarkozy diede l'ordine di bombardare la Libia per portargli la pace. Certo. Cioè gliela portiamo con gli aerei e con le bombe. Basta vedere. Poi dopo, quando sono distrati, come stanno? Hanno destabilizzato tutto. Il Medio Oriente è un inferno. Quindi, l'unica cosa… Il discorso che facevi prima, ecco perché ci sono i migranti. Noi andiamo a devastare le loro nazioni e ovvio che dopo… Ma che faremmo noi se ci sfacciano la casa? Dobbiamo cercarci a meno. È insopprimibile il primo dovere quello di garantirsi la vita e di garantirsi il ricovero per te e per chi se l'hai figlio o per il niposo. Certo. Quindi… È nella nostra natura, nel nostro dovere primario che è quello di conservare, fin quando ci viene data di conservare la nostra vita e di conservare nel migliore dei modi. Majorana, con Rolando Pelizza, perché l'uno l'ha pensata, ma l'altro l'ha resa pratica e rifornendo Ettore Majorana dei dati ha dato la possibilità di svilupparla. Ci ha messo in mano come umanità uno strumento che, se utilizzato, rende vano per forare la terra. Non ci serve più il combustibile nelle materie prime. Non dobbiamo distruggere e fare uccidere con le guerre quelli che stanno sopra la terra, come stiamo facendo adesso in Congo. Per andare a prendere le terre rare, li facciamo scannare e noi sotto li portiamo via. La ricchezza. Non ci sono transumanze dovute alle guerre, alle pestilenze create. Non dovremmo più ripulire nulla, perché la macchina, nella terza fase, quella della trasmutazione, può trasmutare tutti gli inguinanti, tutte le scorie, comprese quelle reattive, in ossigeno. Ozono, ossigeno. Però la parola di Orlando Pelizza, quando venne fuori l'istituzione della SOGIM e dopo il SOGIM hanno individuato le aree dove seppellire le scorie nucleari. Miei amici dell'Umbria, che erano stati individuati come località, mi hanno telefonato per dire se con le mie attività e impegni potevo dargli la mano. Mi trovo, che mi chiama Orlando Pelizza per una cosa, proprio a distanza di pochi minuti, casualmente, e gli dico, Rolando, ma la macchina, tu dicevi un altro giorno quando stavamo insieme, che può distruggere tutte le scorie nucleari. Come si fa a distruggere la scoria nucleare senza far esplodere il bidone? Perché nella mia mente limitata, anche come la scoria nucleare è piccolissima la quantità di stagione, il resto è cemento e piombo per schermarlo, e lui si è fatto una risata col suo solito modo, perché lo devi far scoppiare? E come fai a distruggere? Ma trasformiamo tutto. Bidone compreso. Bidone compreso. E ne facciamo ossigeno. Ma siccome abbiamo sempre parlato di ozono, dico perché l'ossigeno? Perché mi ero fatti i conti. Con i combustibili fossili che bruciamo, le foreste che vengono distrutte, l'inguinamento dei mari, non lo dicono, ma è cominciato a diminuire la quantità di ossigeno che sta nell'aria. E quindi adesso è urgente ripristinare anche quello, sopra l'ozono, ma dove respiriamo noi, dove stiamo nuotando noi? C'è meno ossigeno. C'è meno ossigeno. Quindi tutte le scorie possono essere trasformate in ossigeno o in qualunque altra cosa che ci serve, che c'è bisogno. La plastica, l'immondizia, qualsiasi cosa. Possiamo dire una cosa, Piero, a questo punto. Tecnicamente la macchina risolverebbe tutti i problemi creati dall'uomo, ma non riesce a dare all'uomo una nuova coscienza affinché la macchina possa essere usata. Questo è il problema nodale. Allora, questo è il problema e questo è forse il nostro compito. Mio e tuo perché il 10 dicembre già tu ti sei rincontrato più volte con Rolando. E quando il 10 dicembre, l'ultima volta che io ho incontrato Rolando, eravamo io, Gracie e l'amico comune. Lì ci ha spiegato la situazione, ci ha messo al corrente che gli veniva impedito anche di sviluppare il secondo brevetto e tutto quanto. E quindi ci dovevamo fermare tutti. A quel punto io l'ho guardato, ce l'avevo proprio davanti. di Rolando, quindi fermiamo tutte le attività. No, tu no. Tu devi continuare perché lo fai bene, ma non avere aspettative. Io in quel momento sono rimasto un po' sbandato. Devo continuare, non avere aspettative. Vai a rileggerti la parabola del buon geminatore, capirai. E se questo è il compito, di tutti quelli che l'hanno conosciuto. Beh, allora, una nota curiosa e triste e tragica allo stesso tempo su com'è la testa di certi personaggi. Viene fatto un accordo per andare in una base NATO, per provare… Per riscaldare una piscina, l'acqua di una piscina. Il rallentamento dello spin. E gli portano davanti un carro armato da disintegrare. Ma raccontata da lui, Rolando, dopo aver firmato il contratto con il governo belga, e il governo belga hanno impiegato molto tempo per farla, perché prima di poter firmare un accordo con una società privata, nelle loro leggi, nella Costituzione addirittura era vietato, hanno dovuto modificare prima le leggi che gli hanno consentito di firmare, di fare la prova e un accordo commerciale, perché sennò la prova non aveva senso, di fare quindi un accordo commerciale che prevedeva anche la prova. Hanno dovuto modificare le leggi. Hanno firmato il contratto, la prova doveva essere fatta e monitorata direttamente in Belgio. In una base NATO? In una base. Loro gli hanno detto che c'era da scaldare una piscina. Quando lui è partito con la macchina caricata sull'aereo, sono partiti scortati da due caccia che al confine con la frangia sono tornati indietro perché se l'hanno preso in carica due caccia francesi, noi francesi, perché i caccia erano armati e nell'accordo, nonostante facciamo parte, i caccia armati non possono superare e entrare armati in un altro paese. Quindi c'è pure questo. Quelli francesi l'hanno scortati fino alla base NATO in Belgio, fino all'aeroporto più vicino. Poi la macchina è stata portata dentro. Perché i francesi? Perché i caccia francesi? Perché la rotta non è stata fatta passare sopra la Svizzera da sopra perché hanno detto, che c'erano dei velivoli russi che avrebbero potuto attaccare, perché come lo sapevano gli americani per i giochi delle varie spie che fanno spie a tutti e due, ai padroni, chiaramente lo sapevano anche i russi di questa macchina. Allora in previsione o nel timore che i russi avessero potuto impossessarsi in qualche modo, sono passati in territori dove i russi non potevano entrare, in Italia. E quando sono arrivati là, praticamente l'hanno scaricati, poi portati in questa base NATO in Belgio, l'accordo era di scaldare un corpo all'interno della piscina per scaldare l'acqua della piscina. Si misurava il tempo che impiegava, si misurava l'andamento delle temperature. E quando è arrivato lì, si guarda, la prova sulla piscina non la possiamo fare. Però hai visto quel cannone, c'era un cannone messo da una parte che ogni tanto sparava un colpo a salve, come se vedi quel cannone su colpisci quello che per noi la prova è valida. A quel punto Rolando Pelizza ha cominciato a perdere le staffe, la blob e gli altri l'hanno richiamato. Guarda che il contratto che tu hai firmato, prevedi che devi fare questa prova. Ha richiamato quelli dello Stato italiano che l'avevano accompagnato, ha voluto rivedere l'accordo perché lui non parlava francese, quindi non capiva il francese. Ha firmato l'accordo che era in doppia lingua, italiano e francese. Ha chiamato un nuovo interprete, poi uno ufficiale dell'Italia e l'interprete quando gli ha letto il testo a cui lo richiamavano i francesi, ha detto vedi Rolando, nella traduzione nella lingua italiana dove è nato il documento vuol dire esattamente quello che dici tu. Da come è stato scritto, è stato tradotto in francese, invece c'è la doppia interpretazione, tutte e due valide. Loro lo interpretano in quel modo quindi tu devi sottostare a fare la prova. A quel punto si è sentito proprio veramente preso per il collo, ha chiesto un attimo, è tornato verso la macchina, ha preso un cacciavite di quello dai meccanici che c'è, ha dato un colpo in un punto preciso e la macchina si è smasciata. Finita la macchina, non c'è la macchina, non si può far più la prova. Grande Rolando. Quindi Rolando con macchine che costavano anche a lui in quel momento 70-80 milioni non aveva problemi a distruggerla pur di salvare la sua integrità. Il giuramento fatto mai per finalità belliche, mai. La coerenza è un valore. Certo, nella vita è tutto. Tra l'altro, oltre alle varie garanzie, Rolando chiedeva anche protezione per se stesso e per la sua famiglia nel caso che la macchina fosse stata di dominio pubblico. Anche quando ha scritto al Papa, al Presidente Pertini, a Craxi e all'allora Ministro di Giustizia, a Mino Martinazzoli. In che anno scrive? Primo gennaio 1985. Era in Spagna. Quando è che Rolando deve scappare dall'Italia? In che anno? Te lo ricordi? Ha fatto 11 anni in là, ha finito le prove nel 96 e quindi intorno a 84-85. Quindi era già in Spagna? Sì, sì, lui era, si stava in Spagna. Alla Presidente ha scritto allora, mi permettete di dare una mano a questo mondo ammalato? Perché è questa la richiesta che lui fa. Mi permettete di dare una mano a questo mondo ammalato? Con cortese richiesta di un consiglio, a sua santità il Papa Giovanni Paolo II, al caro Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, al Presidente del Consiglio, onorevole Bettino Craxi, al Ministro di Grazie e Giustizia, Senatore Mino Martinazzoli. Alla presente è scritta per forza maggiore all'estero, oppure aggiunto una più dettagliata cronistoria della mia invenzione e delle susseguenti peripezie. Di tale aggiunta, che costituisce anche una mia difesa personale, non mi attendo certo che se venga esaminata di persona dai maggiori esponenti del mio Paese. Sarebbe giusto, forse distruttivo, trasmetterla ai nostri inquirendi, che piuttosto ignari e malinformati mi accusano di costruzione di un'arma da guerra in segreto. e giù fa tutta una descrizione puntuale con date, nomi e tutto quanto e chiede, datemi una mano, datemi una protezione perché questa macchina possa essere utilizzata. Non voglio nulla, la regalo allo Stato, ma in un mondo che è ammalato di profitti, questo tipo di regali erano da evitare. Il mondo, Piero, è ammalato spiritualmente. Il profitto è una conseguenza della corruzione morale, etica e spirituale dell'umanità. Di fatto mi sento di dire, Piero, che in questo sistema e con questo tipo di coscienza anche del popolo, di fatto io trovo molto difficile che sia possibile che questa macchina in questo momento possa essere usata. Forse dovremmo vivere, Piero, questa grande catarsi, questa sofferenza che ci farà capire finalmente che bisogna cambiare idea e modo di vedere la vita. Io mi trovo a volte a rivedere la faccia di Rolando Pelizza, a risentire quelle piccole frasi che al momento non avevo collocato al giusto. Questa macchina, oltre a poter salvare il pianeta perché interviene sul clima, è in condizione di realizzare veramente una mobilità senza inguinanti perché l'energia a cui la macchina o meglio ancora quella fisica ci fa accedere è quella che aveva già previsto Tesla. E da allora determinate componenti economici e sociali bloccano questo. Perché parole di Rolando Pelizza, quando eravamo in montagna, 20 giorni dopo che gli erano state rubata la macchina quel 13 di luglio del 2021, mi disse che questa tecnologia consente di far funzionare i telefonini attingendo dall'energia che c'è disponibile in ogni centimetro quadrato dell'universo. E se ci fanno utilizzare questa, auto e navi non hanno più bisogno di combustibile, allora sì che le macchine elettriche sarebbero non inguinanti. Non la presa per i fondelli adesso con le macchine a batteria che si ricaricano lungo le strade, ma quell'energia che si prende lungo le strade o dentro casa, da dove viene, sempre dalle stesse fonti. A parte la gigantesca distruzione ambientale per estrarre gli elementi che servono per fare le batterie a litio in quantità industriale, è pazzesca una farsa. Torno indietro un momento Piero. Rolando deve scappare dall'Italia perché è perseguitato con tutte le trappole che il sistema di potere gli pone. Perché riesce a rientrare? Cosa accade? Che a un certo punto fanno cadere le accuse e quindi lui, ma nel frattempo gli hanno distrutto tutto. Aziende lo hanno ridotto sull'Astrico, tant'è che Rolando Pelizza ha finito i suoi anni, il suo percorso terreno in un'abitazione delle case popolari chiari e con la pensione sociale, ufficialmente la pensione sociale. Ma nonostante queste condizioni, Rolando Pelizza con l'aiuto di amici cari ha continuato a studiare per realizzare quello che Ettore Majorana gli ha insegnato. Ha lavorato fino all'ultimo giorno per l'umanità, rattristato per quelle che erano le condizioni economiche in cui aveva trascinato se stesso la famiglia. non è che non lo addolorasse, ma non fino a piegarsi a vendere questo perché diventasse un'arma. Certo, non ha ceduto al ricatto. Non ha ceduto al ricatto. Questo è l'insegnamento che viene a tutti gli italiani che si avvicinano a questo tema. Certo, non ha ceduto al ricatto. Certo, non ha ceduto al ricatto.